La salute è il primo dovere della vita, scriveva Oscar Wilde, e lo hanno sottolineato a gran voce i promotori del Comitato Cittadino dell'Ospedale di Fossombrone, che in questi anni di attività si sono battuti a suon di scambio e documentazioni per ottenere quel tanto desiderato risultato, il passaggio dall'attuale modello di ospedale di comunità ad ospedale di base. Durante la conferenza stampa tenutesi questa mattina, alcuni esponenti del Comitato hanno denunciato l'amarezza e la delusione degli esiti del PSSR in merito alle sorti del nosocomio di Fossombrone, e nello stesso tempo la volontà di non fermarsi e continuare nella battaglia della difesa della sanità pubblica. Siamo in questa conferenza stampa per continuare anche a tenere aperta l'attenzione sul nostro ospedale, perché, come dicevamo, la Giunta regionale ha vinto le elezioni su questa cosa e qualcosina ci aspettavamo. Non siamo sciocchi, capiamo le difficoltà, capiamo che tornare in un'altra strada sugli ospedali non è facile, perché questo lo comprendiamo, però volevamo vedere un segno di inizio percorso, che poi, giustamente nel tempo, piano piano si poteva migliorare, fare tante cose. Invece non c'è stato proprio questo passaggio a fare qualcosa per cominciare ad intraprendere una strada. E questa è una delusione enorme, anche per tanti cittadini, che a Fossombrone li hanno votati, hanno avuto tanti voti, perché la sensibilità su questo argomento era di facile, da cavalcare con facilità. Però ci sta anche la serietà di dire cominciamo un percorso. Questo non c'è stato, è sinceramente veramente deludente. Adesso, piano piano, decideremo insieme quale strategie portare avanti, con chi confrontarci, cercare il modo, in ogni maniera, di vedere se poi questo piano sociosanitario può essere integrato con qualcosa di più per Fossombrone. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo dato un grande supporto per il documento che poi è stato approvato all'unimità, quindi non ci siamo tirati indietro. Era un'opportunità unica per unire le forze e ottenere qualcosa. E il fatto di non aver colto questa occasione, io trovo che sia di una sterilità impressionante proprio. Siamo stati felicissimi che abbiano partecipato così attivamente alla nostra raccolta delle firme. Devo dire che ci ha dato una carica pazzesca, perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo sentito in una mattina tantissime storie che ci hanno veramente motivati. Abbiamo pensato che forse se i politici si sedessero a un tavolino così ad ascoltarne la metà di quelle che abbiamo sentito noi in due mattinate, probabilmente forse farebbero qualcosa di diverso. Questo non lo possiamo sapere, però a noi ci ha colpito tantissimo. E tutti questi cittadini sono venuti anche da altri comuni, con le macchine. È stata veramente una cosa incredibile. Si aspettano qualcosa da noi. Non è impossibile che ci fermino per la strada, che si ricordino della raccolta. E allora come va? Perché hanno delle grandi aspettative. Quindi noi ai cittadini diciamo che non è finita qui, che cercheremo comunque di far sentire la voce del bacino di utenza di Fossombrone, che è ben più ampio della città di Fossombrone. Grazie. Grazie. Grazie.